Cariche piazzate Cariche piazzate Cariche piazzate Cariche piazzate Cariche piazzate Bomba piazzata, in posizione. Bomba disattivata. Bomba disattivata. proteggete gli obiettivi la bomba è stata piazzata la bomba è stata piazzata il cambio del punto di raduno distruggete gli obiettivi cariche acquisite allarme da art ostile in funzione la bomba è inescata no vabbè i piani non erano questi la bomba è iniziata la bomba è iniziata la bomba è iniziata Cerca e distruggi Proteggete l'obiettivo Carica e piazzate Bomba disattivata Siete uno spensacolo, squadra Cambio squadre Distruggete l'obiettivo Abbiamo la bomba Abbiamo la bomba Cambio del punto di raduno Difendete l'obiettivo Difendete l'obiettivo Siamo fuori sotto il nostro anello più debole, capito? Eliminate gli obiettivi! La bomba è nostra! Grazie! La bomba è stata piazzata! La bomba è stata piazzata! Cambio del punto di raduno! Difendete gli obiettivi! La bomba è stata piazzata! 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 I soldi fanno sempre comodo